Tele Durruti, Fulvio Abate, nella serata di ieri ho fatto un posto su Via dei Matti numero 0, Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai 3. E questo è il mio posto nel quale sottolineavo le mie perplessità sulla recitazione di Valentina Cenni, lo dico così, semplificando, ha suscitato delle reazioni, immagino, nell'entourage di Valentina Cenni, chi la ritiene brava e dotata di un notevole talento. Io la reputo negata, come si diceva al liceo, e non credo di dover aggiungere altro. Ai miei occhi, quel birignao, quella prossemica, me la rende negata. Non ho altro da aggiungere. Ti esibisci pubblicamente e quindi ti fai carico anche di chi ha la sensazione che tu sia per l'appunto negata. Irrilevante ai miei occhi che un pubblico di sinistra e di anime belle possa trovarla invece salvifica rispetto all'orrore che fiorisce altrove. Negata. Non riesco a pensare altro. Sarà mio diritto pensare questo. Te le do ruti.